Lo schifo è tornato, ma il problema è che voi lo guardate. Voi che avete amato leggere le opere di Tolkien, voi che avete amato la trilogia di Peter Jackson, voi che avete infestato il web con gli insulti a The Rings of Power, voi lo guarderete comunque. Voi, rinnegati, venduti al demonio, non dovreste guardare la seconda stagione di The Rings of Power e invece voi la guarderete. E qui, secondo me, c'è un problema interessante da discutere, e lo facciamo come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un delicogito alla volta. Vi ricordate della prima stagione di The Rings of Power? Io me la ricordo molto bene perché mi ha segnato con una ferita così profonda che non si rimarginerà mai assolutamente. E mi ricordo, da un lato, coloro che, non avendo mai letto, almeno con attenzione, una sola pagina di Tolkien, sono riusciti ad apprezzarne la mediocre devastazione. Dall'altro, coloro che, conoscendo Tolkien a fondo, hanno visto questa serie come un balrog guarderebbe alla comparsata di Sauron dentro una puntata di Teletubbies, stracciandosi le vesti, i capelli, i denti, tutto quanto. Questa era un po' la suddivisione che ha visto spaccarsi il pubblico di Internet di fronte a questa opera di Amazon Studios. Internet a quel punto diventa il campo di battaglia degli invasati. Ho visto minacce, querele, auguri di morte, insulti, esorcismi, invenzioni di parole, bestiemi, blasfemie. Ho visto veramente imbruttirsi il web che si è trasformato in Mordor, veramente, però senza la scritta che compare accanto di Mordor, che è la scena più incredibile della prima stagione. Io, dal canto mio timidamente, ho visto solo la prima stagione, non guarderò la seconda, perciò la mia critica di oggi non è ovviamente alla seconda stagione che io non guarderò, e guardando la prima stagione devo dire che ho riso forte. Cioè uno degli unici motivi di sollievo che ho avuto guardando quella schifezza incredibile è che ho riso dall'inizio alla fine. Era una serie comica, più comica dello svarione degli anelli, che è tutto dire, perché quello mi ha fatto ridere veramente tanto. Però dall'altro lato mi è anche venuta la bile, che mi ha consumato un po' dentro, mi ha aperto questa ferita, e mi sono ripromesso di non accendere mai più un solo secondo di quello sterco. Perciò qualcuno dirà, perché sei qui a parlarne? Beh, oggi sono qui a ribadire il mio proposito, ma con un caveat. Se hai detestato The Rings of Power, non dovresti guardare la seconda stagione. Il problema però è che tutti parleranno di The Rings of Power quando uscirà la prima puntata, tutta la stagione e via dicendo, e quindi tu la guarderai, dimostrando le mie attesi di fondo, che ripeto da anni e anni. Oggi guardiamo le cose non perché vogliamo guardarle, ma perché tutti le guardano. Le guardiamo non perché siamo appassionati, ma perché non vogliamo essere tagliati fuori dalla discussione. Ed è questo il punto essenziale. Io ho parlato con creatori di contenuti che si occupano di Tolkien, che lo conoscono, lo amano, e che dichiaratamente guarderanno questa seconda stagione pur soffrendo le pene dell'inferno, perché? Perché si parlerà di questa serie, perché farà audience, perché farà trend. E signore e signori, questo è un piccolo girono infernale in cui ci stiamo tutti quanti addentrando, che le torture a Gollum durante la cattività in realtà sembreranno proprio acqua per i fiorellini. Quindi vorrei un po' ragionare su questo, perché è interessante farlo, perché denota alcuni comportamenti del nostro tempo e sicuramente ci darà materiale su cui riflettere. Voglio dire solo una cosa. C'è una sola possibilità per me di guardare in futuro The Rings of Power ancora, ed è quando qualcuno di comprovata serietà nell'ambito tolkieniano. quindi qualcuno che io so che ha letto, che conosce, che ama, che apprezza nel modo genuino tolkien, mi venga a dire questa stagione è un capolavoro. In quel caso io ci ripenserò. Ma fino a che qualcuno, se arriva Paolo Nardi e mi dice beh, se la seconda stagione è carina, io non la guardo. Se arriva Peter Jackson e mi dice that's a masterpiece, allora magari ne riparliamo. Non succederà. Però, se proprio devi guardare The Rings of Power, se proprio non riesci a farne a meno, se proprio devi, devi, perché devi farci il video, il podcast, il commentino, almeno guardala in originale. Usando lo sponsor di oggi, ovvero Cambly. Cambly è sponsor di Daily Cogito da un bel po' di tempo. E che cos'è Cambly? È un'applicazione straordinaria, efficace, interessante, divertente per imparare la lingua inglese attraverso il PC o lo smartphone perché Cambly è un'applicazione che ti permette di entrare in contatto tramite videochiamata con docenti madrelingua inglese che possono insegnarti o migliorarti l'uso dell'inglese commerciale, letterario, filosofico, tecnico, scientifico, l'inglese di cui hai più bisogno perché devi fare un colloquio di lavoro oppure vuoi leggere Shakespeare in originale oppure devi parlare con la tua cugina australiana che sta dall'altra parte del mondo o mille motivi tu puoi con Cambly migliorare il tuo livello di inglese che tu sia beginner, intermediate, expert, troverai il docente giusto per te che ti permetterà di migliorare riascoltandoti, smussando i difetti, ampliando il vocabolario e tutto quello che ti serve. Con Cambly e con il nostro codice sconto potrai imparare l'inglese con praticamente poco più di 5 euro a lezione perché andando nel codice in descrizione e se avrai accesso al piano annuale avrai accesso a un taglio dei costi assolutamente esclusivo e quindi inizia a usare Cambly e poi guardati sta serie di merda però almeno senza la mediazione di doppiatori che forse non lo so perché l'ho ascoltato in originale ma magari peggioreranno drasticamente anche la fruizione di qualcosa che è già impossibile da peggiorare ma non voglio correre troppo Viktor Frankl qualche decennio fa scrisse un libro in cui disse queste parole molto sagge una quantità sempre più grande di libri e di giornali si posa sui nostri scrittori veniamo sopraffatti da molteplici eccitazioni e non solo di carattere sessuale in tale clima di stimoli e di eccitazioni provenienti dai mezzi di comunicazione di massa per restare se stesso l'uomo deve saper distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è ciò che è essenziale da ciò che non lo è in una parola deve sapere che cosa ha significato e che cosa non ne ha e Frankl parlava negli anni 60 dei giornali oggi noi siamo iperstimolati invece da una quantità inverosimile diabolica infernale di informazioni che sono totalmente superflue che non hanno nessuna importanza nessun significato per esempio il trailer della seconda stagione The Rings of Power che ovviamente ecco io qui non voglio parlare di chi ha apprezzato amato la prima stagione perché secondo me quelle persone hanno problemi di discutere con qualcun altro non con me ok ci sta ci sta di apprezzare c'è persino gente che mette il primo posto dei propri film preferiti Donnie Darko quindi io mi immagino che ci siano persone con dei problemi straordinari che dicono ma si in fin dei conti The Rings of Power ha fatto anche cose buone e ragazzi io ripeto ci sono perversioni migliori secondo me basta aprire qualche sito un po' particolare per avere delle varietà molto più interessanti però ci sta io rispetto rispetto il mio problema è un altro è chi invece riconosce che lì c'è del rumore come dice Frankl che lì c'è dell'inessenziale che lì c'è della confusione e comunque ci si tuffa Martin Heidegger negli anni 30 parlò di The Rings of Power o meglio no ovviamente lui per fortuna sua è morto prima che uscisse questa serie però lui parlò di una cosa simile a quella espressa da Frankl Heidegger disse che uno dei problemi del nostro tempo è la chiacchiera che cos'è la chiacchiera? la chiacchiera è quella tendenza a dire le cose non perché le penso veramente io dico le cose che si dicono penso le cose che si pensano faccio le cose che un po' tutti fanno ecco noi nella chiacchiera ci siamo immersi fino al collo perché il problema che voglio discutere oggi con voi è che una buona parte delle persone che guarderanno questo sterco di serie e il trailer mi dice che forse sarà anche peggio della prima cioè ci sono delle cose nel trailer che mi hanno fatto accapponare la pelle e qui non voglio ulteriormente approfondire però dicevo una buona parte di chi guarderà questo letamaio di narrazione lo farà per la FOMO Fear of Missing Out cioè lo farà con quella paura di essere tagliato fuori da una discussione questo avviene in grandissima parte con i creatori di contenuti anche nel mondo anglosassone guardate che è pieno di canali che parlano solitamente di Tolkien che hanno odiato la prima stagione e che hanno già fatto uscire 4, 5, 6 contenuti sul trailer della seconda stagione e che guarderanno la seconda stagione perché? perché fa engagement perché l'algoritmo si accorgerà di te perché tutti ne parlano tutti la guardano tutti si incazzano tutti le insultano tutti litigano e quella è la chiacchiera di cui parla Heidegger e il mio intento di oggi è senza voler accusare senza voler però suggerire che forse un po' per il proprio benessere psicofisico un po' per il benessere delle nostre community forse sarebbe il caso di sottrarsi a questo gioco al massacro perché io un po' ce l'ho con quelle persone che hanno odiato The Rings of Power e comunque ne parleranno cioè con quelle persone che riconoscono quanto sia stato orribile nella prima stagione trasformare Gil-galad Gil-galad uno dei più grandi re degli elfi una semi divinità un essere straordinariamente potente uno che poi ha combattuto direttamente con Sauron con le armate Gil-galad trasformato in Richard Benson ecco per alcuni questo è stato un po' troppo perché in fin dei conti è un insulto un po' all'immaginario tolkeniano ecco chi si è accorto di questo dovrebbe essere coerente dire io non voglio ribadire quell'insulto chi riconosce che trasformare Celebrimbor Celebrimbor uno degli elfi più potenti della storia dell'epica tolkeniana un elfo selvaggio che viene fuori forgiato dalle montagne e dalle foreste uno che dei metalli sa tutti i più grandi segreti uno che fa un baffo ai Fantastici 4 a Silver Surfer uno che se va nell'universo Marvel piglia schiaffoni Thanos Iron Man contemporaneamente ok Celebrimbor trasformato in un commercialista di brembate che peraltro non conosceva neanche il concetto di lega metallica uno che quando gli presentano gli anelli dice oh potevo mettere l'oro insieme al Mithril minchia ma dov'è che ti sei laureato al tribunale di Teletubbies insieme a Sauron che fa la comparsata evidentemente ecco capito se uno si è accorto di quanto sia orribile questa narrazione dovrebbe farsi due conti quelle persone che riconoscono quanto far odiare Galadriel Galadriel uno dei personaggi più belli positivi più ispiranti della saga tolkeniana trasformarla e farla odiare dal mondo intero perché invece di essere questa entità semidivina che ha un destino folgorante che non si macchierebbe mai di nulla di male di colpe di sospetti vi dicendo perché è semidivina ecco è diventata in questa serie una capricciosa influencer tendente alla passiva aggressività sembrava un po' Chiara Ferragni nel momento del Pandoro cioè nel senso un grave problema di passiva aggressività ecco è una cattiva idea io mi aspetto Galadriel che va da Fazio e dice errore di comunicazione cioè questo me lo aspetto a questo punto ecco se ti ho riconosciuto che questo era un problema devi farti due conti sulla possibilità di guardare questa seconda stagione e chi ha riconosciuto che fornire i Numenoreani i Numenoreani il popolo umano più potente della storia che in confronto gli uomini di Gondor sembravano i maniscalchi di Busto Arsizio cioè fornire i Numenoreani i costumi del Luca Comics 2012 dei cosplayer che hanno dismesso quei costumi presi probabilmente da Ebay non era esattamente una grande trovata chi riconosce che mettere opera come regina dei nani opera con la barba come regina dei nani avrebbe gettato tutto in un ridicolo abbastanza comico ed è quello che è successo perché io le scene con i nani ho riso dall'inizio alla fine sono una più ridicola dell'altra l'idea che trasformare il giovane Gandalf in un sessantottino attempato in engover da acidi era proprio una brutta idea con quella frase poi fino al I am good che dici ma cosa c'è proprio nel trip più totale uno che devi prendere mettergli la testa in acqua 16 volte poi farlo passeggiare per un po' per fargli smaltire sta sbornia ecco non è stata una grande idea far scrivere i personaggi a Breivik non è stata una grande idea dare in mano la regia a Metal Carter ai truce clan la fotografia in mano a Stevie Wonder la sceneggiatura in mano a Luca Giurato non è stata una buona idea se una persona riconosce tutte queste problematiche risposte pacattamente e tranquillamente eppure decide scientemente di guardare la seconda stagione ecco il problema più basilare che troviamo è un sadomasochismo straordinario ma se fosse sadomasochismo sarebbe una benedizione perché potrei indicargli tantissime alternative a guardare questa seconda stagione il problema è che non è sadomasochismo è engagement che è una malattia una perversione mille volte peggiore del sadomasochismo il sadomasochismo almeno è una roba che ha a fare con la sessualità allora l'engagement no non c'è neanche quello cosa sta succedendo ragazzi ecco io quindi ce l'ho moderatamente pacattamente senza voler dire a nessuno cosa bisogna guardare cosa non bisogna però un po' mi permetterete ce l'ho con chi si è giustamente lamentato di tutte le cose che ho appena detto riguardanti The Rings of Power ed è consapevole attenzione la cosa più grave non l'ho ancora detta che The Rings of Power non è che interpreta a maglie larghe il messaggio tolkieniano non è che prende e non so dà una prospettiva sull'epica e la mitologia tolkieniana no The Rings of Power sovverte rovescia totalmente cioè giorno notte zero uno bianco nero proprio il cuore filosofico dell'epica tolkieniana io ci ho dedicato un video a questa cosa qua di analisi sul perché The Rings of Power è proprio anti-tolkieniana ecco io un po' non posso evitare ce l'ho con quelle persone che riconoscendo tutte queste cose soprattutto quest'ultima deciderà di dare ascolti alla seconda stagione perché lì siamo di fronte a una perversione per me comprensibilissima ma gravissima da cui bisognerebbe sottrarsi che è la perversione dell'engagement ecco la guarderanno per poterne parlare io voglio persino sperare in cuor mio in una cameretta proprio oscura profonda del mio cuore che tanti dei creatori di contenuti che diranno di star guardando questa serie in realtà non la guarderanno veramente io spero che mentano spero che facciano come quando alle superiori il professore ti dà un tema sull'amico ritrovato di Fred Ullman però tu passi l'intero pomeriggio il giorno prima a giocare a Super Mario Bros e tu ti scarichi il riassuntino del romanzo che già di per sé voglio dire però ti scarichi il riassuntino per fare il temino io spero che una buona parte di queste persone faccia esattamente questo cioè spero che siano disoneste io sto sperando che facciano una cosa in realtà terribile eticamente cioè che non guardino veramente quella quello sterco martoriato narrativamente inaccettabile di The Rings of Power e dicano sai cosa mi guardo il riassuntino su internet per farci il videino così i professorini e il mio pubblico mi danno un buon voto io spero che sia così cioè a quel punto lì per me non esiste basta che non lo guardiate ma sapete per una cosa molto molto concreta perché se lo guardate non importa con quale intenzione non importa che lo guardiate con l'intenzione di smerdarla se lo guardate faranno anche la terza stagione se guardate la seconda guardate anche la terza e faranno anche la quarta e noi nel 2039 saremo qua a bestemmiare in lingua nera perché ancora questa merda che sarà peggiorata di anno in anno e ormai avrà trasformato Tolkien nelle fiction di L'Ori del Santo ma con gli orchi con i balrog con i maghi con gli hobbit già adesso lo è cioè già adesso L'Ori del Santo secondo me ci ha messo lo zampino in The Rings of Power ma questo è un altro discorso saremo ancora qua a dire ma basta ma basta saremo come le comari di Beautiful cioè saremo qua a guardarci negli occhi a raccontarci la 147esima ma che la 11 millesima puntata di quella serie dicendo ma io non ho mica capito perché lo sto ancora guardando lo guardi per parlarne con i vicini solo che adesso i vicini non sono le comari fra una finestra e l'altra del condominio sono il popolo del web e in questo modo il nostro animo si sarà completamente infranto in mille pezzi disperso nella sofferenza di far entrare nella nostra vita questo tutto merda indicibile che odiamo ma di cui ci ingurgitiamo l'ultima goccia perché bisogna parlarne ragazzi è una stronzata è quello che vogliono ecco adesso suonerò anche complottista è esattamente quello che vogliono io sono convinto che il trailer fa così tanto cagare perché dai ragazzi cioè Annatar a parte che è tutto spoilerato ma Annatar fa veramente cagare visto così questa espressione cioè sembra Enrico Papi che si è fatto crescere i capelli mi aspettavo da un certo punto che dicesse musica ed eravamo a posto ok dicevo secondo me il trailer fa cagare apposta fa cagare perché ormai quelli di Amazon hanno capito l'antifono hanno capito che c'è un sacco di gente che è talmente incazzata perché stasera è che la guarderà solo perché si odia e odiandosi guarderà questa serie per parlarne male ma parlandone male comunque l'abbonamento lo farete le pubblicità partiranno e Amazon ne trarrà il guadagno che vuole trarne e dirà è stato un successo è stato un successo non importa che ci sia un popolo di gente che dice di qui non puoi passare come questo che bella è questa statuina delle cascate di Rauros con il re che dice tu Rings of Power non puoi passare non puoi passare eppure è passata è passata perché l'avete guardata il tutto merda vince in questo modo vince per l'engagement vince perché noi vogliamo berci la nostra stessa bile per sbraitarla sul web di fronte a un popolo di persone che dicono si hai ragione ha fatto cagare però siamo tutti a guardare la terza stagione la quarta la quinta non facciamolo non facciamolo il mio appello è non date ad Amazon Studios quello che Amazon Studios vuole la vostra bile sotto forma della vostra attenzione lì fuori è pieno di roba bellissima da vedere o da leggere andate a leggervi la storia della terra di mezzo esce il nuovo libro fra qualche giorno leggete il Silmarillion leggete le appendici al segno degli anelli leggete Tolkien le lettere di Tolkien sono straordinarie bellissime e sono tolkieniane le lettere di Tolkien Rings of Power non ha niente di tolkieniano neanche la virgola lasciata sulle mutande dagli sceneggiatori quando hanno letto i commenti ad Rings of Power neanche quella è tolkieniana ragazzi il mio appello è non facciamoci del male vogliamoci bene a Netar ma andiamolo a fanculo Gilgalad Richard Benson lasciamolo lì nel suo antro cavernoso il commercialista di Brembate che si spaccia perché le Brimbor lasciatelo perdere stanno benissimo senza di noi e noi senza di loro e basta e questo è il video che volevo fare sperando di essere risultato comunque abbastanza equilibrato e in mezzo ai rant di aver espresso qualche idea interessante vi ringrazio per l'ascolto per chi è in live non uscita adesso leggiamo qualche commento per chi è indifferita condividete questa puntata faremo incazzare qualcuno ma almeno magari qualcuno non guarderà The Rings of Power seconda stagione almeno questa è la mia speranza grazie ci vediamo alla prossima e buona giornata a tutti